Apriamo la puntata parlando di un progetto che ci coinvolge direttamente, si chiama La Casa dei Giochi, un podcast nato e prodotto da Gruppo Icaro insieme a Mille Piedi nell'ambito del progetto Shout It Loud finanziato dalla regione Emilia-Romagna e parla insomma di un'attività particolare. Ma non voglio essere io diciamo a introdurre del tutto l'argomento perché lascio la parola alla nostra collega di Icaro che ha seguito il progetto ed è oggi qui con noi agitata come una scoloretta alla sua prima interrogazione, Serena Saporito. Ciao Serena, buongiorno. Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, sono agitata perché è la prima volta che è da un po' che non siamo insieme al microfono. E questa cosa ti mette in agitazione. È abbastanza, vederti così serio mi spaventa. Allora, il progetto La Casa dei Giochi, un podcast sui giochi di ruolo, un argomento che tu conosci benissimo, sicuramente meglio di me, io non lo conoscevo quasi per niente, nonostante avendo un figlio di 13 anni insomma vedevo questi giochi sul tavolo, non sapevo che dietro c'è un mondo meraviglioso, tutto da scoprire e questo podcast ci accompagna alla scoperta dei giochi di ruolo a Casa Pomposa. Quindi comunque è stata una scoperta anche per te, questo mondo. Sì, l'argomento è stato scelto tra l'altro dagli stessi ragazzi perché noi cosa dovevamo fare? Un laboratorio podcast nell'ambito di questo progetto finanziato dalla regione Emilia Romagna, appunto Shout It Loud, quindi per far sentire la voce dei ragazzi. Sono andata e poi tutto il progetto è stato messo insieme anche dalla redazione, tu stesso hai collaborato, sono andata a Casa Pomposa e ho spiegato un po' questo mondo, il mondo dei podcast ai ragazzi. Un mondo che tra l'altro anche noi come Icaro stiamo iniziando ad esplorare perché vorrei ricordare che sulla nostra piattaforma Icaro Play da qualche settimana, proprio una cosa fresca fresca, c'è una nuova sezione proprio dedicata ai podcast. E questo, la Casa dei Giochi, è uno dei primi podcast che abbiamo pubblicato. Quindi ho fatto delle lezioni sull'audio, su questo mondo meraviglioso che è il mondo dell'audio che come sai io amo tantissimo perché ha una grande potenza l'audio e ce lo dimostra questo progetto. Perché con un piccolo microfono siamo potuti entrare in questo mondo di Casa Pomposa e nell'ambito alla fine di queste lezioni doveva essere prodotto un podcast i ragazzi hanno detto ma perché non lo facciamo su Giochi di Ruolo? E questo perché? Perché una volta era tutti giovedì, credo che adesso il giorno sia cambiato, ma insomma una volta a settimana si fanno i Giochi di Ruolo a Casa Pomposa dove tu sai ci sono tantissime attività. Quindi ecco, diciamo, il progetto aveva come obiettivo la realizzazione di un podcast, tu sei andata a Casa Pomposa, hai spiegato un po' i rudimenti della radio, di come funzionano i podcast. Della scrittura, della registrazione, i ragazzi sono poi anche venuti qui in radio e hanno fatto lezione con il nostro Matteo Munaretto. Che è in regia dall'altra parte del vetro, sempre attento alle nostre chiacchiere e poi quindi il tema del gioco di ruolo invece è stato scelto direttamente dai ragazzi, una volta diciamo fatta questa prima parte più tecnica. Sì, un'idea che è arrivata dai ragazzi e da Emanuele Burla che è uno degli educatori della cooperativa Mille Piedi ed è stato lui la persona che ha voluto portare Giochi di Ruolo a Casa Pomposa. Dicevo, qui a Casa Pomposa si fanno tante attività legate anche alla musica per esempio e perché è avvenuto poi l'incontro di Casa Pomposa con l'associazione The Roll che è stata fondata da due giovani riminesi, tra cui Corinna Vandi, che hanno deciso di portare lì e non solo in tante altre circostanze insomma di creare un'associazione per fare il gioco di ruolo ai ragazzi perché come si spiega nel podcast i giochi di ruolo possono avere una funzione davvero importante in adolescenza. Questo è uno degli argomenti ma ci tenevo a dire che tutto nasce dai ragazzi, le interviste le hanno fatte loro, i testi io leggo, faccio la voce narrante in questo podcast ma sono testi che sono stati elaborati con i ragazzi e allora vorrei citare Caterina Gobbi, Maxime Quason, Giulia Maraldi e Alberto Zoffoli che hanno seguito le lezioni del podcast e poi lo hanno prodotto insieme a noi. Allora adesso prima di continuare la chiacchierata noi abbiamo un pezzettino del podcast, ne abbiamo diciamo realizzato un piccolo estratto, sono pochi minuti mentre invece come ci diceva Serena la versione lunga dell'intera del podcast si trova sulla nostra piattaforma, questi sono appunto a tre minuti, diciamo un piccolo estratto, sentiamo quindi come è stato fatto e poi dopo ne parliamo ancora con Serena Saporito. Buongiorno e bentrovati. Per parlare vi del libro di oggi... Quante cose è Casa Pomposa? Un porto sicuro, un luogo di scambi e incontri e da un po' di tempo è anche un luogo per sperimentare se stessi in ruoli particolari. In realtà per me è stato molto casuale e in realtà anche un po' banale. Avevo terminato il liceo e un amico ha chiesto a me e ad un'altra mia amica se volessimo provare a partecipare per una serata ad un nuovo gioco che lui aveva scoperto da non molto tempo ma tenendoci completamente all'oscuro di che cosa fosse. Quindi io e questa mia amica ci siamo ritrovate casualmente al tavolo di questo ragazzo a casa sua spiegandoci molto brevemente di che cosa si trattava e abbiamo scoperto per nostra fortuna che si trattava di qualche cosa che in realtà almeno per me parlando personalmente era un po' una sorta di chiamata. Io già di mio volevo fare l'attrice, non è stata la strada che ho intrapreso ma ho scoperto per fortuna che si trattava di pura improvvisazione intorno al tavolo. Il gioco di ruolo per Corina Vandi è stata una rivelazione ma questa scoperta fondamentale per la sua vita ha deciso che doveva diffonderla, portarla anche ad altri e così ha dato vita ad un'associazione e Casa Pomposa è diventata anche la loro casa. Ma lo spazio non sarebbe servito a niente se a Casa Pomposa non ci fosse stata una persona in particolare, Emanuele, per tutti burla, che è poi il suo cognome. Io da piccolino giocavo con i miei fratelli, loro giocavano con i loro amici ma ogni tanto mi invitavano e mi piaceva tantissimo. E poi l'ho giocato da grande, poi non riuscivo a trovare dei ragazzi con cui giocare ed è sempre stata una mia passione, un gioco per me bellissimo perché mi ricorda delle esperienze nel gioco di ruolo quasi come se fossero delle esperienze di vita importanti perché diventano dei racconti come un libro e quindi ho fortemente voluto che si giocasse anche a Casa Pomposa. E quindi sostanzialmente è tutto molto frutto di immaginazione. Quindi quello che tu devi fare è nato proprio a pensare a come si chiama il tuo personaggio, che tipo di nazionalità tu vuoi dargli, che lavoro fa. Dopodiché devi immaginartelo sia nei tratti fisici che nei tratti magari intellettuali e sociali perché poi andrai a mettere dei valori che a seconda che siano più alti o più bassi il tuo personaggio sarà più o meno bravo in quella cosa o avrà più o meno caratteristiche fisiche o sociali rispetto agli altri. I personaggi. La chiave è qui. Poter entrare nella vita di un altro. Assumerne le caratteristiche. Diventare quel che vogliamo. Uscire da sé e diventare un altro. Fin dall'antichità gli esseri umani hanno avuto la bizzarra necessità di farlo. Come se la loro pelle gli stesse troppo stretta. E così Mattia Pascal può diventare Adriano Mace. Gauguin scappare tra i vividi colori di Tahiti. Fontana squarciare la tela della percezione. David Bowie è anche Ziggy Stardust. Il duca bianco è Aladdin Sane. Dunque perché a noi dovrebbe bastare essere solo una cosa? E allora perché non il gioco di ruolo? In adolescenza poter fare questa esperienza è ancora più importante. Buongiorno e benvenuti. Che belli, che belli i giochi di ruolo. Effettivamente un'esperienza davvero divertente. Soprattutto molto molto coinvolgente. Se non l'avete mai provata, fatelo. Prendete questo spunto del podcast perché vale davvero la pena indossare i panni di un'altra persona. Tirare un po' di dadi e passare una bella serata assieme agli amici. Così come ha scoperto anche la nostra Serena Saporito in questo incontro con i ragazzi di Casa Pomposa. Sì mi sono divertita molto, sono uscita delle cose meravigliose. Questi arditi accostamenti che sentivamo Gauguin sono di Caterina Gobbi perché uno può dire ma siccome le persone mi hanno fermato, mi hanno detto ma... Infatti volevo farti complimenti. Complimenti per, non sono farino del mio sacco, le ha scritte Caterina Gobbi per dirti insomma che cosa ci ha portato, di che cosa abbiamo parlato partendo dai giochi di ruolo. E dicevo, aprendo questo tabellone sul tavolo i ragazzi insomma raccontano i loro personaggi davvero mi sono stupita nel sentire la cura che mettono nel... Sai che c'è una parte dedicata proprio alla creazione e stanno a parlare tantissimo tempo a costruire questi personaggi. Poi abbiamo anche intervistato nel podcast David Spada che è un creatore di giochi di ruolo della nostra zona insomma di San Mauro Pascoli e lui ci ha raccontato quanto anche questo mondo sia in crescita. Tra l'altro si calcola che ogni giorno nel mondo nascano tanta nuovi giochi cioè l'abbiamo un universo. Basta vedere quante persone ogni anno anche frequentano il Luca Comics altro appuntamento che so anche tu frequenti. È un mondo di grande fermento tra l'altro Davide è un bravissimo anche creatore di board game giochi in scatola di cui molti in commercio insomma una mente davvero davvero vivace e piena di grandi idee. Però la cosa che stupisce è l'aspetto anche psicologico utile cioè l'utilità psicologica di questa sperimentazione di se stesso in un altro ruolo ecco e abbiamo anche un po' ricostruito la storia di come nascono i giochi di ruolo di come nasce il concetto di gioco di ruolo anche in psicologia. E poi l'altra cosa che volevo ricordarti Stefano è che tutto questo appunto avviene a Casa Pomposa che è un luogo di proprietà del comune di Rimini gestito dalla cooperativa Mille Piedi che esiste ormai da quasi 40 anni. Io non sono riuscita a ricostruire la data esatta nel senso che qualcuno ha detto è nato nel 1983 allora sarebbero 40 anni ma se non è nato nell'83 poco dopo e quindi è un punto di riferimento importante sul nostro territorio da tantissimo tempo. Io guarda non so se era l'83 o l'87 ma ti posso dire che verso l'88 o l'89 ci andavo a suonare il basso con la mia band di amici quindi insomma in quegli anni sicuramente c'era. E poi che dire è un podcast che dura 30 minuti che sono a frutto di settimane di lavoro ovviamente avremmo potuto dire tante altre cose però credo che sia uno spaccato di quel mondo e di di quell'ambiente. Il mood insomma che si respira a casa pomposa in quelle occasioni credo che sia venuto fuori quindi sono molto contenta. Ma la domanda che non posso non farti è se questo podcast avrà in qualche modo un seguito? Che domande! Magari! Io guarda ne farei uno al giorno se potessi. È chiaro che sembra, cioè è chiaro che per fare un contenuto audio anche l'investimento è diverso. Noi lavoriamo con il video tanto a Icaro e sappiamo che sono tanti gli sforzi anche economici. Diciamo che raccogliere i materiali è molto semplice però c'è un grande lavoro di rielaborazione e cito qui il sound design meraviglioso del nostro Max Alberici che abbiamo scoperto essere un bravissimo davvero. Io ne ascolto tanti di podcast e vi dico che Max Alberici è un bravissimo sound designer e quindi insomma se ci saranno altri progetti di questo tipo io me lo auguro noi come Icaro stiamo producendo altri podcast. Ancora non svelo niente però io sì vorrei farne altri che diano voce come recita questo progetto ai ragazzi.